C'è Daryl Nita, 11.14 di personale, bronzo agli Olimpiadi con la staffetta inglese, terza in mani l'ansiquot, una delle attese oro a Berlino con la staffetta inglese per la ventenne, in quarta corsia English Gardner l'americana, 10.74 di primato, oro olimpico a Rio con la staffetta da qui riparte la sua stagione, non ha brillato per il momento, miscelaglie di Trinidad, 10.82 di primato, eccolo poi Brian Moscavia e la Siragusa per la pattuglia italiana, si allunga lì davanti in corsia, 4.11.03 per English Gardner, vento più 0.9, e allora la favorita di serata è andata a battere un notevole, non si può già vedere, 11.02 intanto il tempo ufficiale della Gardner che fa il record del meeting, primato uguagliato quello della giamaicana Williams, un paio di meeting fa, dicevamo, dell'americana English Gardner, capace nel 2016 di correre in 10.74, il suo anno di grazia.